Benvenuti al ristorante Le Vie del Sale sul Gomare di Sanremo, dove innovazione e tradizione si sposano per dar vita a piatti unici che attingono dalla cucina a Piemottese e Ligure. Vi aspettiamo. Ci troviamo da Piano Gentile, dove si è da poco conclusa la conferenza stampa per la partita di domani Catania-Inter. Della partita si è parlato veramente poco a causa di quello che è accaduto tra il mister Stramaccioni e il giocatore Antonio Cassano. Andiamo a sentire le parole del mister. Maran con i suoi calciatori credo sia riuscito a fare un lavoro incredibile, straordinario e ad oggi nella mia testa è a tutti gli effetti uno scontro diretto perché comunque il Catania è a due punti da noi. Quello che è successo ieri è qualcosa che va riportato assolutamente nei binari delle cose che possono succedere in uno spogliatoio di una squadra di Serie A o comunque una discussione senza assolutamente come è stato scritto oggi da qualcuno che comunque non vuole bene sicuramente a noi perché queste cose riportate sono cose che devono rimanere nello spogliatoio e sono cose che magari ce ne sono state tante altre fino ad oggi e non sono uscite. Non c'è stato assolutamente un contatto ma è stata solamente una discussione con un mio calciatore come ne possa avere avute altre e quindi è una cosa che resta nel nostro spogliatoio. Sono cose nostre e ripeto mi dà anche molto fastidio che sia stata riportata all'esterno e quindi punto. Tra l'altro Cassano è uno dei giocatori nelle ultime sette partite, è il giocatore col minutaggio più alto, il giocatore sempre impiegato, dopo Roma è il giocatore che ha giocato di più e quindi non convocarlo resta una mia scelta. Hai spiegato, hai detto che è stata scritta da qualcuno che non ci vuole bene nel senso che secondo te... No no aspetta, correggo scusa, non chi l'ha scritto, no no no, non chi l'ha scritto, no no, correggo perché magari chi ha riportato perché secondo me se tu, adesso faccio un esempio, se tu litighi dentro casa con tua moglie ti dà fastidio se si sa. Allora se fosse successa una cosa plateale fuori dal campo va bene, ma se succede una cosa nel nostro spogliatoio che è sacro sono cavoli nostri, cavoli nostri, cavoli miei, cavoli del giocatore e basta. Quindi chi l'ha riportata non è, io non la trovo una cosa che vuole bene o comunque viola le regole dello spogliatoio. Lo spogliatoio è sacro, io posso aver discusso altre 30.000 volte prima di oggi e non si è mai saputo perché è il mio rapporto con i giocatori e resta dentro lo nostro spogliatoio. No no, non c'entra niente, chi ha scritto ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto come meglio crede. Io non dico, mi correggo, io parlo chi da dentro il mio spogliatoio l'ha riportata fuori perché eravamo al chiuso. Questa è una mia opinione. Rocchi innanzitutto paga il problema di non essere nella lista d'Europa League e questo sicuramente gli toglie una parte di palcoscenico ma lì si sono dovute fare delle scelte che in quel momento sono state dolorose e ovviamente nessuno si auspicava o immaginava la perdita di Diego. Per quanto riguarda le ultime partite lui non stava bene e questa cosa noi la sappiamo, la sapevamo. Ovviamente ho imparato che in questo ambiente poi quando le cose vanno male si cerca di trovare sempre la soluzione in quello che non c'era, in quello che poteva andare meglio. Nella situazione di Tommaso io ho dimostrato nelle prime partite quando lui stava bene Udine, la Coppa, di utilizzarlo anche per spezzoni di partita, non ultimo a Siena. Quindi poi è normale che finché c'è stato Milito a rovescio aveva avuto meno spazio per altri motivi. Adesso è un giocatore che sta bene e credo che da qui alla fine del campionato sarà utilizzato spesso. Ripeto, paga il fatto di non essere in lista d'Europa League. Allora Guarin, questo lo sapete perché lo commentai a suo tempo, è un interno di centrocampo. Il suo ideale è un interno di centrocampo a tre, quindi o interno destro o interno sinistro. Lui si trova meglio nell'interno destro perché può sfogare la sua corsa sul piede forte. Nel momento in cui, lui ha sempre giocato in questa posizione, nel momento in cui abbiamo cominciato ad avere problemi con il reparto d'attacco, quindi nel mese di gennaio l'ho cominciato ad impiegare a supporto di un attacco che perdendo Milito aveva perso un po' di peso. Quindi, come potete ricordarvi, lui ha cominciato a giocare a supporto delle punte nel momento in cui non abbiamo più avuto il tridente a disposizione. Quindi è come se il tridente per non snaturarci era diventato un tridente con lui, terzo giocatore. In questo caso lui ritornerà, ovvio che queste due partite sono state due partite in cui non avevamo avuto tempo di lavorare in maniera assidua sulla sua posizione e volevo mantenere Palacio e Cassano contemporaneamente in campo. Quindi lui è stato costretto ad un sacrificio, diciamo, da quarto di centrocampo che sicuramente nel primo tempo anche col Milan abbiamo sofferto, ma non per colpa sua ma perché è un giocatore che questo aveva poca abitudine a fare. Adesso lui cercherò sempre di metterlo nelle condizioni di poter far bene anche in virtù del fatto che ho con il recupero di Righi Alvarez, con Schelotto e con tanti altri giocatori la possibilità di avere due esterni di ruolo.